Oggi siamo a Uscio, nell'entroterra di Genova, dalla signora Cristina, che ha fatto l'intervento di insufflaggio bonded alla fine dell'estate 2012. Quindi siamo venuti un attimo a sentire se sta meglio, quali sono i benefici che ha avuto del lavoro e come si è trovato con la sire. Allora signora, lei ha fatto il lavoro di insufflaggio con Pintus a che periodo esattamente? Settembre 2012. Ok, e qual era quindi il suo problema? Perché aveva bisogno di fare questi lavori di isolamento? Per risparmio energetico e perché l'estate c'era troppo caldo in casa e l'inverno soffre forse un po' troppo freddo. Voi siete autonomi quindi di risparmio? Siamo autonomi, sì, a metano. A metano, ok. Quindi qual è stata l'operazione fatta a casa vostra? Abbiamo riempito i muri esterni, l'intercapedine e il sottoteto una parte, una parte sì, l'abbiamo resa utilizzabile con dei pannelli. Con delle tavole, ok. Adesso quindi com'è? Si trova bene? Sì, adesso ci troviamo bene e poi vediamo. Quanti gradi in più secondo lei avete recuperato? O è più stabile forse la temperatura di prima? Beh, io li tengo a 21 costanti e si accendono forse meno rispetto a prima. Ecco. Rispetto a prima, sì, anche durante il giorno la temperatura si mantiene di più costante. Quindi la caldaia? Quindi la caldaia parte meno rispetto a prima. Ecco, sempre 21 costante anche di notte? Anche di notte. Ok, benissimo. Siamo dei freddolosi. L'avevamo incontrato alla Fiumara, che c'era uno stand, stava facendo uno stand e ci siamo fermati a vedere perché mio marito comunque conosceva già. Certo. Perché l'aveva già usato lui come suo lavoro. L'aveva usato in Fontana Boa, non sembra. Sì, probabile. Adesso mi ricordo. È una cosa che consiglierebbe a un amico, a un conoscente di fare? Io sì. Sì? Sì, sì. Ok. Sì, piuttosto che magari un altro prodotto, questo io lo conosco. Sì. 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 Sì.